Se devo ricordare in questi anni le difficoltà belle che ho avuto, non le ho mai avuto nell'impatto con i ragazzi a convincerli ad aprirsi a un mondo nuovo. Era facile, era scritto nel loro cuore, nel loro DNA. È stato convincere un po' i più grandicelli, quelli che hanno le chiavi dei posti, quelli che devono decidere, quelli che fanno fermare ogni cosa con la burocrazia. Sono stati questi i mostri che abbiamo dovuto affrontare, ma ce la siamo cavate greggiamente. Il ruolo dell'arte è stato fondamentale. Non c'era altra via, secondo me, se non quella, in un rione come il nostro o nel sud dell'Austria Italia. È la via della folgorazione, è la via che entra nella pelle, nella pancia, è la via che passa attraverso il corpo, la sensualità. E i ragazzi la amano questa via, no? Per me era difficile ogni volta sedermi, come sto facendo con te, parlare, 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 ma era bisogno farli vivere le esperienze, portarli all'estero, farli vedere i monumenti, mangiare le cose di altri paesi. Questa via ha permesso a loro di poter emanciparsi, no? E quindi sono convinto che, soprattutto in certe zone, l'arte non è un qualcosa per alcuni, è di tutti, perché è la via di tutti, no? Quindi offrirla è l'unica via di riscatto, perché è quella che ferisce il cuore, tutto il resto non serve. Innanzitutto devono mai perdere la speranza, no? Anche nei momenti più difficili, mai perderla e poi devono stare insieme. La forza dei ragazzi io l'ho misurata quando si sono messi insieme, diventano un portento, no? Da me poi sono speciali, sia nel male che nel bene, quindi danno tutto. È importante che non perdano la speranza. L'augurio è che possano fare ovunque quello che hanno fatto i nostri ragazzi. E dico sempre a tutti, se sono riusciti i ragazzi alla sanità, a partire da un posto così svantaggiato, possono riuscirci tutti. Bene, le prospettive sono sempre in aumento, perché certe cose è come se si moltiplicassero su loro stesse, no? Per esempio, ultimamente stiamo molto ragionando come i ragazzi che hanno cominciato 15, 16 anni fa, che adesso sono ometti, no? Possono incominciare a vivere il frutto di questa riformazione. Faccio un esempio, no? Ci sono i ragazzi dell'orchestra sinfonica, sono uomini adesso. Ci sono i ragazzi del teatro, sono uomini adesso. Quelli dell'apparanza sono grandi, no? E questa generazione gli verrà chiesto di fare un altro sforzo. Stiamo preparando una banda che possa, non una banda, un gruppo musicale che possa proporre il canto napoletano e mediterraneo, che possano creare un musical da poter offrire alle persone che verranno a Napoli a visitarci, no? E quindi un'altra chiesa che si apre per un'altra operazione che può sembrare dissacrante, ma penso che non lo sia, no? Perché la Bibbia ci dice che nelle case di Dio anche il passero trova la sua casa. Immagina i figli. Spero di incontrare sempre un ragazzo per dirgli qualcosa che è il suo momento, perché ci vuole anche il suo momento per poter accogliere un invito, no? Hai sentito prima la storia di Calimero, no? E Calimero l'ho visto crescere, ma per sei anni l'ho visto perduto tra i carceri, no? Eppure l'ho visto crescere e non ho saputo dare risposta al suo bisogno, no? Ci è voluto un passaggio così brutto, così terribile. E a volte si ha il momento di incontrarlo, ma è anche il suo momento, perché se non arriva il suo momento è proprio difficile.